Ora, passi per la cravatta con i colori della Norvegia, che è quello, vabbè, non è più una battuta Però, scusatemi, io qui, in questo video proporzionale del congresso, o sono cieco io o sono sempre malintenzionato io Ma io qui ci vedo un bel paio di corna, vedete qui sulla mensola, un bel paio di corna Se io fossi nella posizione della coppia, insomma, vedrei un messaggio subliminale o per il marito o per la moglie, non lo so Era proprio necessario metterci la stagorna qua, su questa mensola, non lo so, chiedo, eh, per un amico